Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il Meteo. Questa giornata ha ancora molta instabilità sulle regioni centrali, in particolare sul Lazio dove ritroveremo dei temporali. Lo vediamo dapprima con le nostre immagini da satellite, dove vi faccio vedere la presenza di questa nuvolosità che ancora circola soprattutto sulle regioni centrali e settentrionali, ma anche sulle aree tirreniche. Ritroveremo infatti i temporali che dal Lazio passeranno sull'Umbria e le Marche, mentre sulle aree tirreniche temporali insisteranno sulla Campania e poi andranno ad interessare anche i settori della Basilicata e della Calabria. Ancora piogge sulla parte occidentale della Sardegna e qualche pioggia invece nel nord-est. La giornata di domani è in miglioramento, ritroveremo un sabato che inizierà con un cielo sereno poco nuvoloso al nord e con qualche nube in più sui rilievi, qualche rovescio atteso tra Lazio ed Abruzzo e ancora sulle regioni tirreniche. Mentre la giornata di domenica è in netto miglioramento, un cielo sereno poco nuvoloso sia al centro che al sud, ancora qualche debole pioggia nelle aree interne, rimangono deboli piogge sulle regioni meridionali, in particolare sui settori tirrenici. Le temperature in questa giornata saliranno di qualche grado dal nord-ovest sull'Emilia-Romagna per poi riscendere di qualche grado, soprattutto nei valori minimi domani mattina. I venti sostenuti oggi tenderanno gradualmente a diminuire l'intensità nei prossimi giorni e così anche i mari risulteranno da poco mossi a mossi nella giornata di domenica. Bene, è tutto per questo appuntamento, a più tardi. Grazie